Quando io passo questo ingresso, non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata, non l'ho mai dimenticata. Senatrice, come valuta la richiesta del Sudafrica di portare Israele a processo? Signori, grazie, gentilissimi, buongiorno, via da davanti per favore, dai, via da davanti. Presidente, qui per imparare? Presidente, grazie. Anche di qua, grazie. Presidente, qui per imparare. Passiamo, il prezzo di questa giornata. Presidente, qui per imparare. Buongiorno. 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 Buongiorno.